I gruppi sono tanti che si propongono proprio in piazza Vittorio Veneto in questa bellissima serata dedicata alla musica. Il gruppo è No Name e mi trovo con Mattia. Allora, quando nasce questo gruppo e perché? Allora, questo gruppo è nato da un'idea di me e Andrea, che usciamo nello stesso gruppo e lui cantava con il coro. Io suonavo la batteria da bambino e diciamo, vabbè, perché non ci uniamo e decidiamo di fare un gruppo. E così nacque l'anno scorso, metà l'anno scorso, verso gennaio, questo gruppo e abbiamo contattato inizialmente i guitarristi, Giulio ed Emanuele, che fanno scuola nostra ed è allenato il gruppo. In seguito si è giunta la bassista, che purtroppo ci ha detto che non potrà più far parte del nostro gruppo dalla settimana scorsa e quindi la sostituisce Aldo. Grazie a tutti.